Indietro, indietro, stare indietro! Pian, pianco che ridi, pianco! Anche pioffiarete! Pianco che no! Se hai fatto la fortuna, questo pesce vale milioni! Ehi ragazzi, venite a vedere, c'è un mostro! Scorsate! Caterina, loro i mani capiranno tu in buca. Scorsate! Pianco, pianco! Oh, terrible! Oddio, lo spiegato! E' la più spiegato di tutti. Ma è vivo! Questa è morta da tre giorni! Ma sta a mezzo a vedere, non volevo andare in mare stamattina! Ma che c'è da guardare! Chi tiene da questo? Perché? Bella! Le vuoi bene la mamma? Bravo, bisogna voler bene la mamma! Ma tu, parola! Perché non lo compriamo? Ce lo vendete? Ma in giù, in esperma, questi troppo non è po' la hosta! Ma te lo guarda come tu! Hai visto? Che strano, chi sa da dove viene? Beh, è una curiosità, volete saperelo! Perché di Australia? Ma è possibile sapere quello è davanti e lì dietro? Però, poverino! E questo insista a guardare! Ehi! 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 Non capisco, non si sente. Non si sente, non si sente. Non si sente. Non si sente.